Il nuovo partito fondato da Lino Leanza Sicilia Democratica inizia oggi ufficialmente il proprio tour per la regione con l'obiettivo di radicarsi nel territorio e spiegare la propria proposta politica. C'è paura incontrata Piane a Scicli per il susseguirsi di furte e danni delle abitazioni che esistono nella zona. I residenti sono impauriti ma anche decisi a difendere le proprie proprietà. Da oggi sono disponibili i moduli di adesione alla raccolta di nuovo capitale della banca della contea di Modica al fine di incrementare la dotazione patrimoniale dell'istituto di credito. Nei giorni scorsi incontro tra i soci e il sindaco di Modica Ignazio Abate. Perché la CGL provinciale non attua le medesime denunce a Modica e a Ragusa per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti se lo chiede a sinistra a Ragusa con una nota inviata oggi alla stampa. Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale Sicilia Democratica. Il nuovo partito fondato da Lino Leanza comincia oggi il suo tour per tutta la regione siciliana con l'obiettivo di radicarsi nel territorio e spiegare la proposta politica. Prima tappa in provincia di Ragusa alla presenza di Iano Gurrieri, recentemente nominato coordinatore provinciale per Sicilia Democratica. Sarà il rilancio dell'agricoltura tanto a livello regionale quanto nell'area eblea il punto nodale per uscire quest'anno dalla crisi economica. Vediamo il servizio. Nata dopo la spaccatura di articolo 4 Sicilia Democratica segue il percorso politico di Lino Leanza, esprime oggi sei deputati all'Ars e l'assessore regionale all'agricoltura Nino Caleca. Ora si vuole radicare nel territorio, si parte dalla provincia di Ragusa Sebastiano Gurrieri e il coordinatore Ibleo. Leanza spiega così il ruolo del suo partito in questo 2015 che sarà fondamentale per riformare la Sicilia. I soldi non sono nel bilancio della regione, i soldi per lo sviluppo sono nei fondi comunitari. Se saremo bravi a spendere, a spendere bene, sono convinto che forse potremmo uscire piano piano dal tunnel. Particolare attenzione politica nei prossimi mesi nella nostra provincia Sicilia Democratica la riserverà ad Ispica e Scicli dove si andrà a votare. Nel complesso per l'area Iblea si punta sull'agricoltura, tanto perché si può contare sull'assessore Caleca quanto perché tra fondi europei ed Expo 2015 questa è la sfida decisiva. Abbiamo un assessore di grande spessore, c'è una voglia matta di fare, Sicilia Democratica su questo si gioca tutto, si gioca la credibilità, si gioca il suo futuro, si gioca tutto. Perché la provincia di Ragusa sta vivendo un momento magico, ma non c'è la consapevolezza dell'opportunità che può sfruttare questa provincia con l'Expo 2015. La dieta mediterranea è stata riconosciuta come bene immateriale dell'umanità. Il cibo è cultura, il cibo è identità del territorio, il cibo è memoria di un popolo. E all'Expo 2015 si parlerà di cibo. E' stato convocato per ieri sera il direttivo del PD di Ispica per fare chiarezza una volta per tutte sui risultati delle primarie. Vediamo com'è andata. Il Partito Democratico ha voluto mettere ieri sera un punto esclamativo sulla cherel primaria di Ispica. Il segretario regionale dei Democratici, Fausto Raciti, ha delegato il responsabile dell'amministrazione del PD regionale, Antonio Rubino, a rappresentare la volontà del partito in merito al nome del candidato sindaco del centro-sinistra. Le primarie sono una sfida. Ci si misura, ci si compete, poi si va avanti tutti assieme per vincere la partita. Ed è troppo comodo quando si perde prendersi il pallone e andarsene. Questa non è la scelta che si fa, che ha fatto e sta facendo il PD in giro per l'Italia. Le primarie sono nel nostro DNA, qua a Ispica c'è stata una straordinaria partecipazione. Non tutti erano d'accordo sulle primarie, nel fare le primarie, così come mi rappresentava il segretario provinciale. Si è scelto e tutti hanno scelto di fare le primarie attraverso regole condivise, regole scritte da tutti. Queste primarie hanno dato un esito e leggendo il verbale di proclamazione del vincitore ho letto che anche la forza numerica era una forza proprio non di poco, la differenza era non di poco, per cui da parte mia, da parte del partito regionale, da parte della segreteria provinciale di Ragusa siamo qua per mettere fine alle polemiche, per fare sentire a Pierenzo la vicinanza del partito regionale, per dare una mano al partito di Ispica, per iniziare immediatamente la campagna elettorale. Non ha voluto parlare Pierenzo Muragli che ha preferito lasciare spazio al segretario provinciale Giovanni Denaro. Il progetto del partito democratico a Ispica partiva dai tre candidati. Oggi il tornello si tira fuori con questo colpo che vuole tirare al partito democratico. Ho già detto, siete in possesso di un mio comunicato stampa che è passato tra le vostre testate, che nessuno può fare punti a spesa del partito democratico. E nessuno, ripeto e lo ribadisco qua, può dire che il partito democratico organizza delle farse. Questo non è consentito a nessuno, non scendo a patti con nessuno su queste questioni, sulla dignità e l'importanza del partito democratico. Noi riteniamo tutti insieme, e lo avete scelto voi ispicesi, che il candidato del centro-sinistra del PD a Ispica è Pierenzo Muraglia. All'incontro con il direttivo del PD ispicesi era presente anche Giuseppe Roccuzzo, secondo alle primarie di dicembre, che dopo qualche dubbio iniziale sembra aver sposato in toto la causa di Muraglie e sarà al suo fianco nella campagna elettorale che sta per entrare nel vivo. Assente invece Gianni Stornello, formalmente si è dimesso un anno fa dal direttivo, cui il PD lascia ancora uno spiraglio di riappacificazione, nonostante la ferma condanna delle sue parole anche da parte del segretario cittadino Giovanni Gambuzza. Ad oggi però realisticamente appare molto difficile che Stornello possa ritornare nella squadra dei democratici. Torniamo adesso a parlare dell'ormai nota Contrada Piani, la zona rurale tra Scicli e Modica, presa di mira dai ladri nelle ultime settimane e teatro di sparatorie tra i residenti e le forze dell'ordine, proprio contro i banditi. I residenti sono impauriti ma anche decisi a difendere a tutti i costi le loro proprietà. La paura dei residenti di Contrada Piani e zone limitrofe. Oggi siamo andati a toccare con mano la situazione che stanno vivendo da un paio di mesi a questa parte i residenti di questa vasta zona rurale, compresa tra i territori di Modica e Scicli, e presa di mira dai gnoti malviventi. Strade deserte, cancelli chiusi con lucchetti e catene, sbarre alle finestre qualche cane che abbaia al nostro passaggio. Molti sono fuori casa per lavoro, chi è dentro invece ci guarda, giustamente con diffidenza. Chi accetta di parlare lo fa senza essere ripreso per paura di ritorsioni, ma appare molto deciso. Sbato notte volevo fuori west, spavano in cabana, da banda, da banda, ero fuori west, perché loro, no, venerdì notte erano qua, in zona. E voi quando stavate chiusi in casa? Noi stavamo chiusi a chiave, proprio. Gli altri gatti si è in mezzo e c'è coprifuoco. Tutti, io, la signora, la ragazza di cabana, c'è una bambina, c'è coprifuoco. C'è coprifuoco, siamo accezzati, oddio, non è che siamo... Cioè, una bambina sembra l'improvviso. Ci raccontano di ronde spontanee messe in piedi dagli stessi abitanti della zona che girano in continuazione. Negli ultimi giorni, però, le forze dell'ordine stanno rispondendo alle richieste di sicurezza dei residenti e questo sembra stia contribuendo a calmare gli animi. Cosa io sono, sentiamo un po' più protettici, ma la verità. Perché ci sono di sera i carabinieri che girano? Sì, 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 fino a ieri sera pronto a intervento il carabinieri, cose giuste. Ah, stanno girando? Sì, sì, sì. Speriamo che pegassano, perché abbiamo una piccina di quattro anni e siamo terrorizzati, neanche. L'esasperazione e il terrore possono però spingere anche ad atti estremi pur di difendere i propri cari e la propria casa. Siamo tutti nel panico, siamo tutti nel panico, perché è una cosa richiesta, io ho quasi 40 anni che sono qua, quasi 40 anni. E non l'avete mai vista? Mai, io veniva nelle sede, perché prima era pieno pieno, le sede la stava e gli avevo apprezzato, veniva a lavorare e gli avevo apprezzato nella casa. Ora no, ora, ho una volta di giovedì, una volta di giovedì, una volta passavo a qualche bassista da qua e fa la bassa, perché poi passavo uno scuro di faccia con un punto blu sempre, che poi sta, punto blu che agisce, e passavo fino a così a volte. Cioè, se la capra è stato tutto e non c'è nero quelle passate, le puoi dire, c'è la capra. La capra non cerchiamo di ammazzare a nessuno. Ma certo, chiaramente. Fino a quando non c'erano i genitori, non cerchiamo di ammazzare a nessuno. Ma lasciare una schiena così giusta che era piena? Ieri hanno detto no, non fate niente, non dobbiamo fare niente. Per quanto loro, non fanno niente. Non siamo in questa maniera che facciamo qualcosa, ma però nemmeno loro devono fare qualcosa. E se non vanno a giovedere, come ho gioveduto in oggi 40 anni. 50 anni che giovediamo, notte e giorno. E ora basta. Siamo tutti protetti comunque. Convalidato l'arresto del pregiudicato sciclitano, sorpreso dai carabinieri mentre tentava di rubare in un'abitazione di Marina di Marza, a Ispica. Stefano Arrabito, 52 anni, è comparso davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato. Dopo la convalida, il magistrato ha concesso all'uomo gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato al prossimo 5 febbraio. Primo arresto del 2015 da parte della Polizia di Stato nell'ambito dell'immigrazione. Il manette è finito uno scafista tunisino responsabile di aver condotto il pescareccio dalle coste libiche, con a bordo 240 immigrati sbarcati venerdì scorso al porto di Pozzallo. Lo scafista, messo davanti all'evidenza dei fatti, non ha voluto ammettere le proprie responsabilità. Mentre, secondo quanto dichiarato dai testimoni, gli organizzatori hanno incassato quasi 250 mila dollari, circa mille dollari a migrante. L'ufficio ordine pubblico della costura di Ragusa, unitamente alla Polizia Scientifica e all'ufficio immigrazione, intanto ha completato l'identificazione di tutti i migranti sbarcati, trasferendoli nottetempo in altre strutture del territorio nazionale a bordo di Pullman. Ancora la cronaca in primo piano. Sono state emesse le condanne a seguito del processo relativo all'operazione antidroga dei carabinieri, che a gennaio dell'anno scorso sgominò una banda dedita allo spaccio di droga, in particolar modo nel territorio di Pozzallo, in quello di Ispica, in quello di Modica e in quello di Vittoria. Sette persone sono state condannate dal GUP del Tribunale di Ragusa Andrea Reale perché coinvolte nell'operazione antidroga polvere rosa eseguita dai carabinieri a Ispica nel gennaio dello scorso anno. Tutti hanno praticato il giudizio abbreviato 4 anni, 8 mesi, 30 mila euro di multa inflitti a Sebastiano Morana, 2 anni, 8 mesi, 6 mila euro a Rosi Geri, un anno e 4 mesi, oltre a 2.400 euro di multa per Silvia Deliberto, concessa la sospensione. Francesco Agosta è stato condannato invece a 3 anni, 4 mesi, 20 mila euro di multa. Sette anni di reclusione sono stati inflitti al tunisino Mohsen Sof, tunisino di 34 anni. Miluda Limi, 38 anni, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi. Tutti gli altri sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di Mary Salonia, 24 anni, Danila Biazzo, 28 anni, Adem Ben Slama, tunisino di 31 anni, Antonino Campo, 34 anni, Francesco Runza, 27, Daniele e Rosario Scolaro, rispettivamente di 25 e 29 anni, Alessia Spadola, 24 anni. Le attività di indagini condotte dai carabinieri avevano permesso di accertare le responsabilità dei 12 soggetti nello spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Ragusa, in particolare a Pozzallo. Nel corso delle indagini emerse un'intensa partecipazione femminile nella gestione degli affari della droga. Infatti, le quattro giovani donne arrestate si occupavano attivamente e personalmente per l'organizzazione dell'acquisto, il trasporto e la detenzione ai fini di spaccio dei quantitativi di sostanza stupefacente. L'attività investigativa svolta dai carabinieri ha permesso di ricostruire questa rete di spacciatori operanti in provincia, in particolare a Pozzallo, Ispica, Modica e Vittoria. E la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due vittoriesi intenti ad armeggiare con attrezzi il Bancomat dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, Ibla. Alla vista della Polizia, i due sono scappati in due direzioni diverse, ma la Polizia li ha bloccati. Si tratta di Giovanni Guercio, 28enne, che si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa, mentre Lorenzo Gulino, 33enne, scappato, caduto ed ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori, per cui è stato ricoverato in ospedale. Adesso si trova piantonato dalla Polizia in attesa dell'intervento chirurgico. I due devono rispondere di furto aggravato in concorso. E continueremo a parlare di cronaca nella seconda parte del nostro telegiornale. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Ve ritrovate alla seconda parte del nostro telegiornale. Ci sarebbe anche un pozzallese tra l'equipaggio dei due pescherecci italiani, il Jonathan di Siracusa e l'Alba Chiara di Riposto, fermati in Egitto. Le autorità egiziane starebbero valutando la posizione dei componenti di equipaggio. La notizia è stata diffusa dai componenti di alcuni motopesca presenti nello stesso tratto di mare e dai familiari dei membri degli equipaggi. È stata confermata inoltre dalla Farnesina, che sottolinea che l'ambasciata italiana al Cairo segue la vicenda con la massima. Attenzione! Il sequestro delle due imbarcanzioni sarebbe avvenuto intorno alle 15, mentre stavano effettuando una battuta di pesca al pesce spada a circa 40 miglia dalla costa. Da frammentare notizie non confermate ufficialmente dalle autorità italiane, il peschereccio appartenente alla marineria segacusana avrebbe subito dei danni, forse causati da uno speronamento da parte del mezzo navale della Guardia Costiera egiziana in acque internazionali. Torneremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Un arresto, 8 denunce, 14 perquisizioni effettuate, 2 le patenti ritirate, 15 contravvenzioni al codice della strada combinate per un totale di 15 punti decurtati dalle patenti di guida, 56 veicoli controllati e 122 le persone identificate, 3 mezzi recuperati, risultati rubati e restituiti ai legittimi proprietari. E questo il bilancio dei controlli del weekend dei carabinieri della compagnia di Vittoria. Vediamo. Era entrato nell'istituto comprensivo plesso campo sportivo di Comiso per rubare, ma è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato. Si tratta di un 18enne incensurato che si era introdotto all'interno della scuola per trafugare le merendine del distributore automatico e chissà, magari se non fosse stato bloccato dei carabinieri, avrebbe portato via anche le apparecchiature. Alla vista dei militari aveva tentato la fuga dalla struttura scolastica, ma con scarso successo. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la propria abitazione. Durante i controlli del territorio, oltre all'arresto del giovane, i militari dell'arma sono stati impegnati anche nell'attività di controllo delle principali arterie stradali, dove sono stati rilevati diversi illeciti, che hanno fatto scattare il ritiro di due patenti, 15 contravvenzioni, la decurtazione di 15 punti. I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno poi denunciato 8 persone. A questi ultimi sono stati contestati reati in materia di ricettazione, evasione dagli arresti domiciliari, omissione di soccorso. I controlli, portati avanti dalla Compagnia di Vittoria, sono stati svolti in tutto il territorio sotto la propria giurisdizione. E controlli del fine settimana da parte anche della Polstrada di Ragusa per prevenire le stragi del sabato nel territorio provinciale. Il bilancio dei controlli è di due positivi all'alcol test, 5 infrazioni per mancata, copertura assicurativa, un tagliando assicurativo falso e 8 infrazioni per eccesso di velocità sulla Ragusa-Catania. E da oggi sono disponibili i moduli di adesione alla raccolta di nuovo capitale per la banca della Contea di Modica al fine di incrementare la dotazione patrimoniale dell'istituto di credito. La data di oggi era stata anticipata dal Comitato dei Soci durante un incontro svolto a Palazzo San Domenico con il Sindaco di Modica, Ignazio Abate, alla presenza dei rappresentanti delle categorie produttive e dei consorsi fidi. Le somme raccolte, si precise in un comunicato stampa dei Soci, sono vincolate al progetto di risanamento e rilancio della banca in virtù dei precedenti rilievi di Banca Italia. I rappresentanti del mondo produttivo e dei consorsi fidi, si legge ancora, hanno ribadito il loro sostegno al Comitato dei Soci e si sono impegnati a promuovere il progetto tra gli associati. Il Sindaco, dal canto suo, conclude la nota, ha confermato impegno e appoggio a nome dell'intera amministrazione comunale. Cambiamo argomento. Perché la CGL provinciale non attua le medesime denunce a Modica e a Ragusa per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti? Se lo chiede a sinistra Ragusa con una nota inviata oggi alla stampa. Sentiamo. Nei giorni scorsi la CGL provinciale aveva inoltrato una lettera al Governo nazionale, alla Commissione antimafia e all'autorità anticorruzione, denunciando come Modica fosse l'unico comune d'Italia nel quale, da quasi sei anni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene effettuato con una ordinanza contingibile ed urgente senza che le amministrazioni abbiano per l'affidamento del relativo appalto indetto un bando di gara. Una serie di osservazioni fatte dal sindacato, tra cui i costi del servizio, che in questi anni nella città della Contea sono lievitati di milione in milione. Oggi, a sinistra Ragusa, interviene sulla vicenda, premettendo di apprezzare la nota del sindacato che punta giustamente ai riflettori su Modica, ma nel contempo chiedendosi come mai la stessa CGL non nutra il medesimo e sentito interesse per quello che accade nel medesimo settore e quasi nelle medesime modalità a Ragusa. Nel capoluogo ebleo, infatti, scrive a sinistra Ragusa L'appalto della gestione dei rifiuti ammonta circa 750 mila euro al mese e viene sistematicamente prorogato da oltre tre anni. La CGL, dunque, sollecitano i responsabili di a sinistra Ragusa prenda la medesima posizione di denuncia sul sistema di gestione dei rifiuti anche qui. In rappresentanza dei forconi che non hanno ottenuto l'autorizzazione a manifestare stamattina Marcello Guastella si è piazzato davanti la prefettura di Ragusa per chiedere il rinvio dello sfratto alla famiglia Starace di Vittoria. Sfratto previsto per mercoledì. Secondo i forconi la casa della famiglia Starace è stata letteralmente svenduta all'asta per poco più di 12 mila euro dopo una serie di eccessivi ribassi. Il movimento dei forconi denuncia i comportamenti per certi aspetti irraziali delle banche che contribuiscono a deteriorare il tessuto sociale ed economico del momento e nella vicenda specifica auspica che il buonsenso prevalga. In ogni caso i forconi sono pronti mercoledì mattina ad una nuova mobilitazione davanti la casa della famiglia Starace. L'iniziativa del sindaco Abate sul pagamento IMU per i terreni agricoli è tardiva e demagogica. Pensarla così è il PD di Modica che evidenzia come l'iniziativa di Abate non fa altro che accordarsi con l'attività giudiziaria intrapresa da altri al solo fine di potersi attribuire i meriti di un'eventuale vittoria che in ogni caso avrebbe effetto sul piano nazionale. Qualora il ricorso non abbia esito favorevole il PD invita il sindaco a procedere alla revisione e al ribasso dell'aliquota IMU per tutti gli immobili dato il maggiore introito derivante da quella sui terreni agricoli. A 21 anni dall'ecidio di Scilla in cui morirono attinti da una raffica di mitra gli appuntati Vincenzo Garofalo e Antonino Fava ieri mattina a Donna Lucata città natale di Garofalo si è svolta la presenza dei familiari dei due militari la cerimonia di commemorazione a cui hanno presenziato il prefetto di Ragusa annunciato Vardè il comandante provinciale dei carabinieri Sigismondo Fragassi il questore di Ragusa Giuseppe Gammino ed altre autorità provinciali e locali la commemorazione è cominciata con un momento di preghiera del sacerdote Donnello Garofalo della parrocchia Santa Caterina da Siena di Donna Lucata successivamente sul monumento eretto ai due martiri è stata deposta una corona dall'oro sulle note del silenzio è deceduto il giudice Michele Palazzolo 57 anni magistrato presso il tribunale di Ragusa da circa 5 anni da quando cioè aveva lasciato il palazzo di giustizia di Modica ieri mattina il decesso all'ospedale maggiore dove era stato ricoverato per una crisi respiratoria anche se da oltre un anno lottava contro un male incurabile lascia la moglie e due figli il decesso a determinato cordoio visto che Michele Palazzolo era molto apprezzato non solo tra i magistrati e l'avvocatura ma anche nel mondo civile dove aveva sempre mostrato disponibilità umiltà e grande professionalità e cambiamo adesso decisamente argomento un servizio del nostro ufficio commerciale eleganza esclusività ed unicità così i fiori d'arancio può essere definito e così è stato definito ieri da l'atelier sposa e cerimonia inaugurato ieri pomeriggio a Vittoria in via la marmora 344D nasce appunto da un desiderio di aprire una realtà dedicata alla sposa e non solo da parte della titolare Franca Marotta fiori d'arancio si distingue soprattutto per lo stile contemporaneo dove l'eleganza e la cura dei particolari si evidenzia in ogni angolo i brand sono le migliori case ed atelier nazionali e internazionali come nasce quest'atelier? nasce da un sogno che finalmente si realizza è il coronamento di un sogno da bambina però adesso attraverso il suo sogno realizzato riuscirà a realizzarne degli altri? certo riuscirò a realizzare i sogni di queste belle ragazze le nuove spose di oggi chiunque verrà qui a visitare insomma a provare questi abiti che cosa troverà? qual è lo stile su cui voi vi basate e presentate a tutte le future spose? abbiamo diversi stili perché la donna è dinamica quindi abbiamo stili moderni classici romantiche come è giusto che sia per ogni donna ogni donna è diversa di conseguenza ogni vestito deve essere diverso diverso ed unico dunque c'è anche la possibilità di personalizzare alcuni accessori? senz'altro abbiamo la possibilità di personalizzare i vestiti anche le scarpe le scarpe che vengono appunto realizzate con gli stessi tessuti e dei vestiti abbiamo delle scarpe made in Italy appositamente per rendere non solo bella la sposa ma anche comoda in quel giorno in occasione dell'apertura Fiori d'arancia offre esclusive promozioni in particolare una sul viaggio di nozze allora sono tante le promozioni la più importante è per tutte le spose che prenoteranno il loro vestito acquisteranno il proprio vestito entro 60 giorni avranno un buono sconto di 300 euro presso l'agenzia Arianna Serena venite 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 a Vittoria in Viela Marmora 344 vi aspettiamo una famiglia quasi perfetta di e con Carlo Bucci Rosso in scena questa sera alle 21 al teatro Garibaldi di Modica una storia con poco umorismo e molta attinenza al tragico mondo delle adozioni i nostri programmi canale 11 alle ore 21 piazza Italia canale 605 alle 21.30 la replica di Pipola la puntata su Don Gino Tirrito canale 694 21.30 la replica lezione semiseria di Rocco Papaleo è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci scelto e buona continuazione su Video Mediterraneo Grazie a tutti i nostri spettatori